Giorgia Melone non usa giri di parole e mette dei paletti per la scelta della squadra di governo La leader di Fratelli d'Italia infatti a questo punto stringe i tempi per la formazione del nuovo esecutivo e spiega bene qual è la sua posizione nella riunione di questo pomeriggio con i vertici di FD Una frase esplicita bene il modo in cui la premier impettore si prepara a comporre la lista dei ministro, non mi farò imporre nomi che non si hanno all'altezza del compito La leader di Fratelli d'Italia specifica poi che il nuovo esecutivo sarà con una forte connotazione politica, intendiamo mettere in piedi il consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile, ha ribadito la Meloni Poi ha parlato delle sfide che attendono il nuovo esecutivo, ereditiamo una situazione difficile, i ritardi del PNRR sono evidenti e difficili da recuperare e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l'ha determinata Insomma la Meloni ha le idee molto chiare sul da farsi e la priorità resta sempre l'economia con un'attenzione particolare ai sostegni per le imprese e per il tessuto produttivo sempre più piegato da questa tsunami che si sta abbattendo sulle tasche di milioni di italiani che abbiamo imparato a conoscere col nome di Caro Bollette Grazie a tutti